Entra nel centro di smissamento delle poste e ruba un cellulare ma scatta l'allarme e viene restato in flagranza nei guai un 22enne di origini africane. Verrà comunicato in tutti i quartieri di Pesero il nuovo piano di emergenza comunale con 55 aree di raccolta e il progetto presentato nella sede della protezione civile inaugurata a Villa San Martino. Celebrata la Virgo Fidelis patrona dell'arma dei carabinieri commemorati anche l'ottantesimo anniversario della battaglia di Gulqualber e la giornata dell'orfano. La Lega Fano chiede le dimissioni del sindaco Massimo Seri è accusato di un rimpasto di giunta solo alla vigilia del congresso del PD per i consiglieri e una scelta strategica per far sì che il messaggio arrivi a chi di dovere. Intanto futuro democratico si rinnova e apre ad azione e al Movimento 5 Stelle. Bello, sicuro e solidale sabato prende il via il Natale di Pesero nel cuore tra le novità il villaggio di Babbo Natale e lo scivolo di ghiaccio. Green Pass per accedere alle attrazioni mascherina obbligatoria di pomeriggio. Tra poco in diretta su Fano TV primo cittadino con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con l'arresto di un 22enne del Gambia che ieri sera si è intrufolato nel centro di smistamento delle poste in Viale Piceno a Fano. Il ragazzo intorno alle 22.30 è entrato all'interno forzando la finestra del bagno ma è scattato l'allarme collegato con le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Fano diretti da Stefano Seretti che lo hanno colto sul fatto. Il ragazzo alla vista dei poliziotti ha tentato di scappare ma è stato subito bloccato. Addosso gli è stato trovato un cellulare aziendale appena rubato. Il 22enne residente ad Arezzo e con precedenti per furti e droga è stato arrestato in flagranza di reato. Questa mattina si è svolto il rito abbreviato e il giudice lo ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione. Il giovane sconterà la pena in carcere a Villa Fassigi perché a suo carico c'era già una sospensione di pena per un fatto analogo commesso lo scorso anno in Toscana. I vicili del fuoco invece sono intervenuti a Cagli dove un camion ha urtato durante una manovra una cabina del gas provocandone la fuoriuscita e l'incendio. È successo intorno alle 17.30 in strada Orianna. Sul posto anche Marche Multiservizi che ha chiuso le valvole e scongiurato il peggio. Non si registrano feriti ma per sicurezza è stata evacuata un'abitazione. Una giornata di grande importanza quella di oggi per i carabinieri del comando provinciale di Pesaro Urbino che questa mattina hanno celebrato con una funzione religiosa la Virgo Fidelis patrona dell'arma. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro Urbino hanno celebrato la patrona dell'arma Virgo Fidelis. La funzione religiosa presieduta da Don Alberto Levrini e da Don Alberto Vivenzio cappellano militare del 28esimo reggimento Pavia si è svolta oggi alle 11 presso la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo di Pesaro. Una giornata di grande importanza carica di fede e orgoglio per l'arma che oggi commemora anche l'ottantesimo anniversario della battaglia di Kulquaber che ebbe luogo il 21 novembre del 1941 in Africa. Un intero battaglione di carabinieri si sacrificò per tre mesi nella difesa del caposaldo di Kulquaber e di caduti vengono ricordati oggi nella preghiera dei carabinieri. Questa giornata è molto importante perché rappresenta il nostro momento di vicinanza tra tutti i militari sia in servizio che in congedo ma anche un momento particolare perché commemoriamo anche la giornata dell'orfano e diciamo ci permette di essere vicini a quelle che sono le famiglie di chi ha perduto il loro carico. Alla funzione religiosa ha partecipato una rappresentanza di carabinieri e di carabinieri forestali in servizio nei vari comandi della provincia e dell'arma in congedo. Presente anche il prefetto di Pesaro Tommaso Ricciardi insieme al comandante provinciale tenente colonnello Gianluigi Cirtoli. Soprattutto in questo momento dobbiamo garantire quella che è la vicinanza alla popolazione e chiediamo alla popolazione di esserci vicini perché il nostro lavoro è sempre più difficile in una società sempre molto più accelerata in un momento così particolare come quello pandemico. E adesso l'aggiornamento sul Covid. Nelle Marche nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso. Si tratta di una donna di 45 anni residente a Civitanova Marche. Tra le nuove diagnosi positive riscontrati sono 93 di cui 33 in provincia di Pesaro Urbino. In testa per numero di contagi c'è Ancona con 46. Negli ospedali della regione ci sono invece 4 ricoveri in più rispetto a ieri per un totale di 91. Sale il numero dei pazienti sia in terapia intensiva mentre cala quello dei degenti in semi intensiva. Cambiamo argomento. La protezione civile di Pesaro cambia casa. È stata inaugurata sabato scorso. La nuova sede è situata in via Lombardia in zona Villa San Martino. Presentato anche il nuovo piano di emergenza comunale. Come dire, evidenziare quanto questo gruppo di volontari... Dal piano neve al rischio sismico fino a quello idrogeologico è stato annunciato il nuovo piano di emergenza comunale elaborato dal gruppo di Pesaro della protezione civile. Suddiviso in sei aree di rischio che sono inquinamento costiero, rischio idrogeologico e sismico, neve, incendi boschivi e maremoto. Il piano, che individua 55 aree di emergenza in tutto il comprensorio comunale, è stato presentato lo scorso sabato dal geologo Luca Mosca e sarà poi comunicato in maniera schematica ai quartieri della città. Da oggi, ha commentato David Piccinini, responsabile regionale della protezione civile, Pesaro può garantire un alto livello di sicurezza grazie a un piano come quello presentato, corposo, dettagliato e facilmente comprensibile. L'annuncio del piano è avvenuto nei locali di via Lombardia 7, in zona Villa San Martino, la nuova casa della protezione civile di Pesaro. In questa nuova sede, ha spiegato Ugo Schiaratura, coordinatore tecnico del gruppo comunale di Pesaro, c'è tutto quello che ci serve. Se abbiamo molto spazio esterno possiamo fare anche addestramento, perché la protezione civile ha bisogno anche di fare addestramento, perché noi dobbiamo essere sempre pronti quando interveniamo sulle cose che ci chiamano. Ovviamente non veniamo, non siamo professionisti del soccorso, ma siamo gente che ha fatto tutti i tipi di lavoro. E noi intanto ci raddestriamo con le pompe, con le motoseglie, tutto quello che può servire per dare una mano alla gente. Inoltre, la nuova sede diventerà anche Drive Tamponi. L'Asura ha visionato la location e la giudicata favorevolmente ha spiegato Schiaratura. Il primo di dicembre dovrebbero partire i tamponi, perché prima erano un centro operativo, poi ad agosto sono stati spostati a Fano. Adesso, siccome aumenta il numero, lo riportano a Pesaro e lo riportiamo all'interno della nostra sede. La nuova sede è stata inaugurata alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi, di alcune personalità della regione e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che rivolgendosi alla protezione civile ha affermato davanti all'emergenza vi siete moltiplicati e questo è un grande messaggio per una società più unita, giusta e solidale. Soddisfatto anche l'assessore all'operatività Enzo Belloni. Il punto di forza, spiegato, sono i nostri 150 volontari che hanno dato e continuano a dare la loro disponibilità. Abbiamo una richiesta continua di iscrizione, tant'è che l'obiettivo è quello di abbassare il limite minimo di età, quindi di portarlo a 16 anni come succede in altre situazioni. Quindi sarà un modo anche per educare i ragazzi al civismo. Devo dire che i volontari in questi mesi poco fortunati per il nostro paese hanno dato cuore, energia e tanta voglia di fare e hanno dato risposte importanti all'esigenza dei cittadini, dal presidio dei punti vaccini, ai tamponi, al consegnare la spesa a casa. Si sono resi disponibili, diciamo, dalle feste alle situazioni quelle un pochino più delicate. Quindi è un grazie e questo qui vuole essere un momento non solo per presentare il piano di protezione civile comunale, ma anche per ringraziare i tanti volontari che danno una mano a tutta la comunità. E la società quadrilatero Marche Umbria, controllata di Anas, oggi è aperto al traffico la Fabriano Matelica Nord della strada pedemontana delle Marche, asse di collegamento tra le direttrici di Perugia Ancone e Foligno Civita Nova Marche. Il tratto, costato 86 milioni di euro, è lungo più di 8 chilometri e comprende una galleria di 911 metri e 6 viadotti, oltre allo svincolo intermedio di Cerreto Desi. Il percorso è a careggiata unica di larghezza complessiva pari a 10 metri e mezzo, costituita da una corsia per senso di marcia da 3,75 metri. Nel frattempo proseguono i lavori per il completamento dei restanti tre stralci, che completeranno l'intera direttrice lunga 41 chilometri. La fine degli interventi è prevista per il 2023. È una giornata storica per la Regione, ha commentato il governatore Francesco Acquaroli, un'opera sognata da tanti anni, ha detto che oggi finalmente è una realtà, perché rappresenta un'opportunità preziosa per rilanciare il nostro territorio e soprattutto dopo il sisma del 2016. Ed ora la politica con il pedifanese che si rinnova e apre ad azione al Movimento 5 Stelle. Per il candidato alla segreteria, Tonti Bandini, si deve puntare su un centro-sinistra civico e riformista. Abbiamo bisogno di un partito fatto da iscritti, militanti, simpatizzanti, cittadini, e non un partito di eletti. Le decisioni devono essere prese con un percorso parallelo partecipativo. È la linea politica annunciata da Riccardo Tonti Bandini, che durante una conferenza stampa ha spiegato le ragioni della sua candidatura alla segreteria del PD per futuro democratico. Bandini, 40 anni, docente all'Accademia di Belle Arti di Urbino, si contende la guida del partito fanese con Tommaso della Dora, candidato di IDEM. Al Congresso Cittadino, in programma dal 25 novembre al 12 dicembre, verranno rinnovati gli organismi in vista delle elezioni comunali 2024. I motivi sono diversi. Diciamo che quelli principali sono quelli di cercare di rinnovare questo partito, il nostro partito democratico di Fano, per cambiare la prassi politica. Insieme a tutto il gruppo di futuro democratico abbiamo sentito l'esigenza proprio di metterci in gioco per provare a cambiare, a rinnovare il partito, specialmente dopo, come sappiamo tutti, l'esito delle ultime elezioni regionali. La Commissione, ha spiegato Bandini, sta organizzando il calendario degli appuntamenti che si svolgeranno nei vari circoli della città. Intanto si lavora su una sinistra ampia, civica e riformista, con il coinvolgimento di Azione e dei pentastellati. Dobbiamo allargare il campo all'interno dei confini del centro-sinistra. Secondo noi è il modello letta, è il modello vincente, lo abbiamo visto nelle ultime amministrative, dove il centro-sinistra è andato unito abbiamo vinto ovunque, anche nel nostro territorio, nella nostra provincia. Siamo contro assolutamente il modello fossombrone, dove tutti dentro per fare qualcosa. La nostra peculiarità, il nostro primo lavoro sarà quello di riconsolidare tutti i legami con i principali protagonisti della coalizione che governa Fano adesso. Ma io penso che i tempi sono moturi anche per iniziare a relazionarci con il Movimento 5 Stelle, perché potremo scoprire tante cose in comune. La Lega Fano invece oggi ha chiesto le dimissioni del sindaco Massimo Seri. Il primo cittadino, hanno detto i consiglieri, mette sul tavolo il rimpasso di giunta alla vigilia del congresso del PD. Una scelta strategica per far sì che arrivi il messaggio a chi di dovere. Seri non scarichi le responsabilità su Fabiola Tonelli e si dimetta. Una richiesta forte e chiara, quella che arriva dalla Lega Fano, intervenuta oggi sui malumori ormai palesi all'interno della giunta al governo della città da giugno 2019. Per il partito del Carroccio, il primo cittadino non solo si sta nascondendo dietro all'inesperienza dell'assessore ai lavori pubblici di cui la Lega chiede le dimissioni da tempo, ma sarebbe valutando il rimpasso delle deleghe per una strategia politica ben precisa. L'assessore Tonelli è sempre stato un assessore per caso, con delle fragilità che assolutamente non dovevano essere messe a capo dei lavori pubblici della terza città delle Marche. Ciò però non toglie che il tempismo del sindaco Seri è perfetto. Alla vigilia del congresso del PD, con il quale si rieleggerà il segretario che poi guiderà la corsa alle candidature per il 2024, mettere sul tavolo un rimpasto di giunta oggi credo che sia un bel messaggio, dal punto di vista nostro, un cattivo messaggio politico che si dà ai propri compagni di navigazione per usare un termine come l'abbiamo iniziato prima. Perché potrebbe anche succedere il seguente scenario. Qualora il segretario del Partito Democratico che verrà eletto sia una persona vicina a Seri, si potrebbe continuare con un percorso e con determinati target. Qualora invece la cosa sia esattamente l'opposto, si potrebbe anche pensare a un rimpasto di giunta che possa mettere sul tavolo anche la testa di qualche assessore vicino al PD. E quindi crediamo veramente che questa esperienza di governo debba finire prima possibile. La città di Fano merita completamente un cambio di passo, un cambio di passo vero e non un cambio di rotta di una nave che sta affondando. Per legge hanno spiegato i consiglieri se Seri si dimettesse entro il prossimo 31 dicembre potrebbe ricandidarsi e a proposito di elezioni la Lega ha escluso possibili alleanze con il PD come avvenuto a Fossombrone. Chiediamo le dimensioni del primo cittadino perché secondo noi la domanda che ci facciamo è dove era il primo cittadino quando l'assessore Tonelli prendeva certe decisioni. Sicuramente erano avvallate dal sindaco e quindi noi diciamo che non è corretto nascondersi dietro le dimissioni della Tonelli per trovare un capro espiattorio e attribuire la colpa a questa persona che tra l'altro ha dimostrato una certa fragilità nelle attività e nella programmazione del suo lavoro. Avete parlato anche di immobilismo della Giunta? Certo, questo è sotto gli occhi di tutti vorremmo evitare che un rimpasto mantenesse per altri due anni e mezzo questo immobilismo che abbiamo potuto constatare nei due anni e mezzo precedenti quindi chiediamo veramente che il sindaco faccia un esame di coscienza e rimetta il mandato e si vada a nuove elezioni. E questa mattina alle 5 la banda musicale Città di Fossombrone ha rispettato la tradizione festeggiando Santa Cecilia patrona dei musicisti suonando per i vie e i quartieri della città una consuetudine che si ripete da decenni e quasi unica in tutta Italia. E torniamo a Fano dove oggi è stato posizionato in piazza 20 Settembre un abete alto 16 metri donato alla città dalla famiglia Tarini di Monteporzio. Nei prossimi giorni l'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco di Fano annuncerà nel dettaglio tutte le iniziative legate al Natale che partiranno sabato 27 novembre alle ore 20 con l'accensione dell'albero un evento che Fano TV trasmetterà in diretta. Il cuore pulsante del Natale si accende anche a Pesaro tra le novità presentate oggi il villaggio di Babbo Natale di 70 metri quadrati e lo scivolo di ghiaccio per accedere alle attrazioni però servirà il Green Pass e la mascherina sarà obbligatoria di pomeriggio anche all'aperto. Angelica Panzieri Una marea di eventi natalizi dal 27 novembre al 9 gennaio accenderanno il Natale nella città di Pesaro per il format ormai consolidato di Pesaro nel cuore lanciato dall'amministrazione comunale. 40 giorni ricchi di attività per grandi e piccini in cui saranno illuminati come lo scorso anno anche i borghi del comune. Un Natale che oltre ad essere attrattivo sarà anche sicuro come afferma lo stesso sindaco Matteo Ricci. Grazie a tanti privati che hanno deciso di investire dalla nostra città dal villaggio di Babbo Natale che è una cosa nuova e unica al scivolo per i bob che avremo in via Curie la solita bellissima pista del ghiaccio a coccole sonore alle attività dell'Avis davvero un programma ricchissimo il più bello di sempre e al tempo stesso uno dei Natali più belli d'Italia perché continuiamo ad essere una delle città più attrattive durante il periodo natalizio anche grazie ai mercatini di Natale ma anche un Natale super sicuro perché purtroppo ancora siamo dentro la pandemia abbiamo bisogno di affrontare queste settimane delicate con grande rigore per cui non solo ci sarà il Green Pass obbligatorio per entrare a tutti gli eventi e tutte le attrazioni ma abbiamo deciso nel pomeriggio di introdurre la mascherina obbligatoria in tutto il centro storico nelle vie interessate dai mercatini prevedendo comunque una concentrazione di persone più forte soprattutto in quella fascia oraria inoltre probabilmente andremo incontro a un Green Pass rafforzato questo non dipenderà da noi dipenderà dal governo tante le attrazioni previste alcune confermate dalle edizioni precedenti altre invece assolutamente nuove per la città ho confermato la pista di pattinaggio la grande pista di pattinaggio in piazza abbiamo confermato i mercatini dislocati questa volta in tutto il centro storico quindi non solo in piazza del popolo e in più abbiamo due attrazioni molto interessanti una è la slide che è lo scivolo di ghiaccio che metteremo in via Curiel e un'altra è il villaggio di Babbo Natale ogni weekend le scuole di musica accenderanno il centro storico con delle piccole performance dislocate sempre queste nelle vie del centro pesarese e in più la collaborazione con DNA Coccole Sonore dove ci saranno quattro gazebi sparsi per la città all'interno di questi gazebi laboratori degli elfi cucina tradizionale anche foto con le mascotte e tra le novità un vero e proprio villaggio di Babbo Natale davanti Rocca Costanza parliamo di case imponenti sono tre le attrazioni principali casa di Babbo Natale ufficio postale e ricovero della slitta parliamo per intenderci la casa di Babbo Natale è alta 7 metri ha 70 metri quadri di superficie ed è vivibile all'interno si troveranno delle scenografie realizzate da scenografi tra i più importanti d'Italia al ricovero della slitta si potrà salire su questa slitta che è alta 3 metri con tutta la famiglia e farsi fotografare e poi l'ufficio postale dove i bambini potranno scrivere o da casa e quindi portare le letterine piuttosto che scrivere sul posto e verranno imbucate dagli elfi che si arrampicheranno sulle pareti e andranno a imbucare su un casellario fatto apposta per lasciare appunto il messaggio a Babbo Natale il biglietto costa 15 euro all'interno del villaggio ho realizzato un contenuto per far vivere la vera emozione del Natale è un contenuto è un musical che si chiama Natale da favola dove si racconterà la magia del Natale il villaggio aperto dal primo weekend dall'ultimo weekend di novembre quindi 27-28 rimarrà aperto tutti i weekend si aggiungerà poi il 7 e l'8 di dicembre quindi l'immacolata e poi dal 23 dicembre tutti i giorni fino ad arrivare al 6 di gennaio con l'arrivo della Befana dopo il successo dei dolci di carnevale a partire da domani martedì 23 novembre parte su Fano TV l'appetito viene mangiando tra una sforcinetta e l'altra tra una sforchettata e l'altra il nuovo programma dedicato alle ricette fatte in casa nel periodo di Natale nuovi circoli ricreativi della città prepareranno altrettanti primi piatti come i cappelletti passateli in brodo e tante altre specialità appuntamento dunque a partire da domani poi per tutti i martedì e venerdì dalle ore 21 sul canale 17 di Fano TV tra poco invece torna Primo Cittadino quindi subito dopo le previsioni del tempo torneremo in diretta con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli allora ci vediamo tra poco